Venere a vento, benvenuti a Dubai, in diretta da Casa Vento, lo spettacolo dei droni, guardate. Sono migliaia di droni che volano in cielo, si illuminano e creano tutte queste figure, queste scritte. Quale sarà la prossima? Oh, bellissimo! Ma è impressionante, guarda, guarda, ma si abbassa pure, no! Mamma mia! No! Che meraviglia! Mamma mia, che spettacolo! Quanto è bella sta canzone! Mamma mia! Cioè, sta galoppando, ti rendi conto? Ma è incredibile! Ma è incredibile! Mamma mia! Un po' la storia, no? Dei locali. Ah, perché è in concomitanza con l'inaugurazione del Dubai Shopping Festival, la famiglia. Lo fanno tutti gli anni, dura circa 30 giorni e fanno due spettacoli.